In due mesi il cancro lo ha divorato. Carlo Biagio Chironi, ex operaio di Ottana, è morto nel gennaio del 2022, a 74 anni, di mesotelioma pleurico. La stessa sorte è toccata da altri suoi colleghi. Le figlie dell'ex operaio, in pensione dal 2002, questa volta hanno deciso di fare chiarezza, presentando una denuncia alla Procura della Repubblica di Nuoro. La malattia è imputtabile all'Amianto, presente nello stabilimento di Ottana, dove il padre ha lavorato per 30 anni. Le figlie hanno fatto un esposto alla magistratura. A parlare la figlia Lorena assieme all'avvocato che le difende, Giulia Lai. Allora, mio padre era un lavoratore Enichem sin da quando eravamo molto giovane. La sua prima esperienza grande, lavorativa e importante è stata appena all'Enichem fibre. Nei tempi in cui la fabbrica è stata aperta, ovviamente si pensava di avere la grandissima fortuna di poter appartenere a quella schiera di operai che potevano usufruire di un lavoro fisso. Negli anni ha avuto sempre l'allegria di andare a lavorare con grande entusiasmo, considerando che loro si ritenevano una grande famiglia, dove in un gruppo di lavoratori operai trovavano un senso stretto di appartenenza e quindi ho un ricordo molto fervido di lui che andava a lavorare sempre fischiettando, fischiettava e rientrava in allegria, allegro. Purtroppo però nel tempo, dopo la sua pensione, ha iniziato ad avere degli stati di affaticamento dopo diversi accertamenti. C'è stato un momento in cui un campanellino d'allarme lo ha portato a dover indagare con più attenzione, per poi scoprire due anni fa che si è evidenziata una macchia, una nube nera che poi è risultata essere un mesetolema pleurico. Il mesetolema pleurico è un tumore che colpisce la pleura, ossia il rivestimento del polmone e viene generato dall'esposizione negli anni dell'annianto. Immediatamente è stato ricoverato allo zonchello in pneumologia. Dopo diversi accertamenti e dopo l'esame istologico è venuto fuori l'accertamento della malattia. Gli è stato chiesto se lui volesse essere ospedalizzato, in realtà ha preferito tornare a casa. Io ho scelto di andare a casa con lui e da lì, dai primi di novembre fino al 31 gennaio, che è la data in cui mio padre è morto, c'è stato un excursus in cui tutti gli interruttori del suo corpo hanno cominciato piano piano a spegnersi. Ha vissuto praticamente neanche tre mesi, perché da novembre a gennaio ha avuto prima un blocco renale, poi la difficoltà a deglutire, successivamente è subentrata l'insonnia, io somministravo a lui la terapia del dolore che equivaleva alla morfina, un dosaggio prima minimo di morfina, per poi arrivare anche a dargene 12 durante tutta una giornata o nel momento notturno. C'è stato poi dal 20 gennaio un suo calo totale fisico, dove i reni non hanno più collaborato, dove la sua situazione respiratoria veniva compromessa, quindi ho pensato bene di avvisare all'ospice, dove ci stavano comunque aspettando, perché noi avevamo la possibilità di poterli avvisare anche all'ultimo momento e sarebbero riusciti ad avere nell'immediato un posto per babbo, l'ho portato il 28 gennaio e da lì poi ci sono state delle complicazioni molto importanti, immediate e veloci, finché poi è morto il 31. Non era la prima volta che avveniva un caso del genere, non era la prima volta che loro supponevano la malattia, che poi è una malattia molto silenziosa, molto insordina, è uno di quei tumori che crescono, però sono silenti e si palesano solo 30 o anche 50 anni dopo dall'attività lavorativa. C'è stato un momento in cui io inizialmente e poi anche mia sorella, con il benestare anche di mio fratello, abbiamo deciso di fare questo qualcosa perché ritornando al ricordo di mio padre nella sua gioia di andare a lavoro e quindi di ritrovare questa sua grandissima famiglia, c'è stato un momento durante la notte in cui lui ha pianto e una delle frasi che mi hanno portato a decidere di fare questa cosa è stata a sentire lui che ha detto io questa cosa non me la meritavo, mi hanno fatto veramente un gran regalo. Ed è quello che mi hanno chiesto la famiglia Chironi, trovare dei responsabili, cioè chi e perché ha consentito questo e chi e perché non ha agito in tempo per evitare delle morti diciamo certe. Ci sono altri casi, ci sono tantissimi casi, non solo nella zona, nel comune di Ottana, ma diciamo nella piana di Ottana e tanti paesi che sono stati coinvolti perché molti lavoratori provenivano dalle zone interne della Sardegna, non solo della provincia di Nuoro ma anche della provincia di Oristano, che sono deceduti o hanno contratto delle malattie comunque ricollegabili al lavoro svolto. Non ci sono procedimenti penali pendenti se non quello conseguente alla presentazione del nostro esposto in procura a Nuoro. Questo perché? Perché appunto vi è stato un esposto un po' di tempo fa che è stato per cui è stata richiesta l'archiviazione ed è stata disposta l'archiviazione dal GIP di Nuoro e non si è avanti. Il motivo principale per cui non si è andata avanti e quindi si è stata disposta l'archiviazione è che le uniche morti di cui i familiari hanno presentato l'esposto per mesotelioma pleurico, quindi quella malattia che la scienza ha detto direttamente ricollegabile all'esposizione all'amianto, cioè non ci sono altre cause per le quali quel soggetto ha contratto con la malattia, purtroppo erano deciduti troppo tempo prima. Quindi di conseguenza i termini prescrizionali del reatto ipotizzato, ovvero l'omicidio colposo, era già prescritto per cui è stato archiviato. Ed è il motivo fondamentale per cui oggi la famiglia Chironi ha ripresentato un altro esposto. Il signor Chironi è morto nel gennaio 2022, diciamo in tempi più che recenti e abbiamo chiesto che le indagini venissero riaperte sulla base di quelle che erano già state fatte, molto egregiamente, è stata anche disposta a suo tempo la perizia di Bruno Murer, che appunto aveva accertato il collegamento tra il mesotelioma pleurico e l'esposizione all'amianto.